Parte una nuova annata, un'annata molto importante, con un campionato pronti a risalire in una categoria di vostra appartenenza. È un anno di ripartenza, ma in realtà è un anno che continua su un progetto che ormai va avanti da cinque anni. Siamo partiti con entusiasmo cinque anni fa e raggiungiamo oggi le tre squadre regionali. È una squadra di seconda categoria che punterà sicuramente per riconquistare quelle che sono le competenze del Ciri e Calcio. Abbiamo in itinere anche, ormai è finito, il nostro campo in sintetico e la formazione del calcio femminile, che deve essere quello che noi crediamo, il calcio per tutti. Il Ciri e Calcio deve essere la continuità per le donne, per i piccoli e per l'eccellenza di una città come Ciriè che merita le categorie che cerchiamo di raggiungere. Noi siamo orgogliosi di quello che facciamo e crediamo molto nel nostro progetto, il progetto giovane. Questa sera nella presentazione della società è stata presentata tutta la parte dello staff tecnico. Voi rispetto alle società limitrofe vicine che si sono affiliate comunque a grosse società di serie A, voi avete deciso di fare tutto praticamente in casa da voi. È una scelta che paga e si spera che pagherà anche per il futuro? Allora, quello di scegliere di affiliarsi a società a centinaia di chilometri secondo me non ha un significato logico perché chi segue i progetti deve avere la possibilità quotidiana di vedere i progressi o i regressi degli atleti che devono fare. Lo specchietto per le allodole non conduce da nessuna parte. Noi abbiamo una collaborazione fattiva con il Torino Calcio dove abbiamo degli scambi tra il mister, abbiamo delle presenze settimanali con i nostri piccoli giovani che vanno a provare degli stage con il Torino Calcio perché è una società vicina, è una società che ha la possibilità molte volte di vedere i nostri tecnici. I nostri tecnici hanno la possibilità di lavorare, di vedere, di attingere, non a distanza di chilometri come possono fare altre scelte che secondo me non pagano. Il Ciriè è questo, il Ciriè è una cosa seria. Per la famiglia Savanti il Ciriè vuol dire un pezzo di storia di vita. Ha cominciato con suo papà, il suo nonno e poi adesso lei. Cosa vuol dire essere presidente del Ciriè Calcio? Il Ciriè Calcio, come ha detto bene lei, è iniziato nel 1947 con mio nonno tra i fondatori, un giocatore, mio padre presidente per due annate e purtroppo è un evento brutto, drammatico e mancato su questi campi. Per me il Ciriè è sempre stata una famiglia, è sempre stato quello che era una parte importante della mia vita, una parte importante di quello che è la mia giornata. Io penso di aver trasmetto e cercherò di trasmettere a tutti i giovani che calcano questi campi questo mio senso di appartenenza. L'ho trasmesso a mio figlio che gioca nella nostra società con tanta voglia di fare e di far crescere la nostra società e cerco di trasmetterlo a tutti questi giovani che questa sera ancora abbiamo presentato perché è importante dare un senso di appartenenza e togliere quel senso di mercenario che esiste purtroppo in alcuni comparti del calcio. In chiusura, questa sera il sindaco Loredana De Vietti ha ringraziato comunque il Ciriè Calcio per quello che fa per la popolazione. Qual è il rapporto della società con l'amministrazione comunale? Abbiamo instaurato un rapporto franco, schietto e sincero con il quale abbiamo perché Loredana, essendo un buon sindaco e una grande amica ed essendo una donna di carattere e di temperamento abbiamo avuto modo di confrontarci e di produrre quel risultato ottimo che è la gestione di questi campi e la creazione del nuovo campo in sintetico che verrà inaugurato a settembre. Il calcio per l'amministrazione e per il Ciriè Calcio è un veicolo importante per poter far praticare sport a chi non ha la possibilità di spendere denari ma ha la possibilità di giocare e di star fuori da quei rischi che quotidianamente si incontrano sulle strade. I ragazzi possono vivere sereni, possono fare calcio, possono fare sport grazie al contributo dell'amministrazione e enormi sforzi che facciamo noi come Ciriè e come Sodalizio Sportivo. Grazie a tutti.